Puntata speciale carissimi amici quella odierna dedicata anche al Parco Valentino quinta edizione 2019, una edizione ricca di novità Pastorino non poteva naturalmente mancare ma tante sono le novità che vi attendono anche in concessionaria e quindi andiamo a scoprirle insieme Finalmente ti ho trovato Enzo sto girando in lungo e in largo questo salone devo dire che oggi la giornata non è proprio indicata Tutte scuse, non mi ha cercato, faceva un caldo, fa un caldo eccezionale posso togliermi la giacca, abbiate pazienza, sono maleducato però non la faccio più oggi, veramente bellissima una giornata fantastica siamo al Salone dell'Automobile di Torino presenti come sempre, naturalmente la concessionaria Pastorino Sonia è qui con me Ma adesso che facciamo? E se tu hai tempo io ti ospiterei in macchina facciamo un salto in corso alla mano perché ho qualcosa da raccontarvi Devo dire che apprezzo molto l'aria condizionata oggi perché è stata davvero una giornata molto caliente e quindi mi piace ristorarmi nel tuo ufficio Però meglio così, l'abbiamo atteso tanto questa stagione questo momento di caldo che tutti quanti stiamo attendendo Caldo sì, ma le sorprese sono altrettanto calde Calde perché? Perché volevo raccontarvi come ho avuto modo durante il viaggio di parlarne con Sonia di un momento pocale, un momento che stiamo vivendo tutti tutte le case automobilistiche, tutti i marchi e noi siamo facenti parte di questo grande mondo di automotive Allora, d'accordo con la proprietà Pastorino d'accordo con Volkswagen Group Italia abbiamo pensato di trovare una soluzione che fosse gradevole per tutti quanti voi che avete la necessità o non ce l'avete, potrebbe diventarlo di sostituire la propria autovettura bene, è il momento dedicato alla vostra risorsa economica Perché? Perché abbiamo un lotto di oltre 250 autovetture disponibili nuove da immatricolare in pronta consegna ovviamente per trasparenza vi dico che metà delle autovetture sono già qui in azienda ma per questioni di spazi non possiamo gonfiare i muri le altre sono disponibili su parco e però possiamo immatricolare l'auto quindi se qualcuno di voi avesse necessità come sta pensando Sonia tra parentesi perché abbiamo fatto due conticini molto così alla spicciola come si suol dire potrebbe essere un momento veramente particolare per acquistare l'autovettura intendo dire, parliamo di supervalutazione importante rispetto alla quotazione ufficiale della vostra vettura d'occasione qualora necessitasse darcela in permuta la possibilità di poter risparmiare veramente ma tangibile, toccato con mano, su tutte le vetture disponibili in pronta consegna per poter far sì che le vetture vengano immatricolate entro venerdì prossimo quindi venerdì 28 giugno la vettura deve essere per forza immatricolata approfittate delle opportunità che abbiamo messo in gioco abbiamo chiesto uno sforzo importante alla proprietà Pastorino proprio per poter reciprocamente trovare un vantaggio perché di questo è quello che stiamo parlando io posso confermare dati alla mano, conti alla mano fatti con Enzo lui parla fino a uno sconto di 10.000 euro su una vettura quindi una vettura che deve essere, lo ripetiamo, immatricolata entro fine giugno fino a 10.000 euro di sconto? Fino a 10.000 euro di sconto e sottolineo per tutte le categorie speciali quindi inserisco possessori di partita IVA, liberi professionisti, imprenditori entrare troppo nel dettaglio ci diventa difficile però se avete piacere di venire a trovarci e fare una passeggiata nei nostri circa 12.000 metri quadri di esposizione avrete sicuramente la possibilità di toccare con mano e quindi far vostre queste certezze che vi stiamo informando in questo momento quindi vetture disponibili in pronta consegna mi raccomando chiedeteci di provare su strada la vettura perché è importantissimo per capire, a pensare importantissimo, noi lo ribadiamo ogni qualvolta che ci vediamo in onda Sonia mi ricorda tutte le volte, ricorda Enzo di far provare le vetture ai clienti perché è importante, perché ci rendiamo conto che magari usciamo di casa con un'idea e arriviamo in concessionaria e magari troviamo un'opportunità sia economica che non fa male al nostro portafoglio sia magari anche di guidabilità perché questa è una vettura che possiamo decidere di guidare per tanti anni oppure approfittando del ormai famoso mi permetto di dire il progetto valore Volkswagen che è un nuovo sistema di acquisto che ti dà la possibilità di poter guidare una nuova Volkswagen ogni tre anni e dopodiché facciamo passare questi tre anni poi decidiamo se tenerla, se rifinanziare la metà che non abbiamo mai pagato se sostituirla con un'altra vettura e approfittare delle opportunità che ci sarà fra qualche tempo Ma le opportunità sono calienti così calienti che non riguardano soltanto questo lotto di vetture di cui ha parlato che devono essere assolutamente immatricolate entro il 28 giugno ma c'è tutta un'altra disponibilità enorme che riguarda le chilometri zero dove gli affari sono davvero affari Sì, chilometri zero ormai da tempo ne stiamo parlando chilometri zero che cos'è? Il chilometri zero è una vettura che per qualche necessità per qualche motivo abbiamo deciso di immatricolare solitamente gli ultimi giorni dei mesi trascorsi Abbiamo disponibili parecchie vetture parlando di App, parlando di Polo La Polo sappiamo tutti che in questo momento sta subendo un ritardo di consegna e quindi abbiamo voluto approfittare di questa opportunità abbiamo acquistato delle vetture da Volkswagen le abbiamo targate per poterle consegnare immediatamente benzina, turbodiesel, abbiamo T-Roc, T-Cross abbiamo monovolume, abbiamo Tiguan e qui vorrei accendere una lampadina perché il Tiguan in questo momento è il monovolume il SUV, due ruote motrici, quattro ruote motrici sia esso benzina che turbodiesel abbiamo la possibilità di potervi offrire con oltre 12.000 euro di risparmio quindi signori carta, penne e calamaio venite a confrontare qui se effettivamente stiamo raccontando io e Sonia e non ci permetteremo mai di raccontare delle cose non vere circa 12.000 euro di risparmio ovviamente non su tutte le carline ma su parecchie di queste vetture oltre 20 sono i Tiguan disponibili in pronta consegna appena immatricolati sui quali siamo in grado di poter accedere all'acquisto dell'auto anche con il progetto valore Volkswagen nonostante non sia un'auto nuova quindi scegliamo una vettura che ci piace costa 20.000 euro 10.000 euro sarà l'intervento sul quale andremo a noi a programmare tutta la nostra disponibilità anticipo, quota mensile il restante ci pensiamo fra tre anni beh vi viene da dire il sole ha dato la testa alla proprietà visto che il caldo è arrivato gli acquisti si fanno comunque allettanti grazie a questi sconti così importanti anche sulle chilometri zero anche sulle chilometri zero però non dimentichiamo che la concessionaria Pastorino oltre a essere tecnicamente specializzata nella vendita delle vetture nuove delle vetture d'occasione è tecnicamente specializzata anche per il post vendita quindi oltre 20 sono i colleghi che periodicamente seguono dei corsi di aggiornamento per ciò che riguarda l'eventuale problema meccanico elettronico che può esserci sulla vettura e una decina di persone sono i colleghi che seguono il reparto carrozzeria reparto carrozzeria perché siamo concordatari Ania quindi qualora aveste necessità approfittate del nostro service infatti un service importante che comunque richiama un nome di una concessionaria importante quella col maggiolino sul tetto una concessionaria storica che sicuramente non mente per esperienza professionalità e alta affidabilità il team di persone competenti in primis Enzo Bussolini al vostro servizio per qualsiasi delucidazione per qualsiasi consiglio quindi non esitate Corso alla mano 48 Grugliasco è qui pronto a servirvi adesso l'aperitivo ci va certamente